Perché Renzi è bravo, da questo punto di vista è geniale, Renzi riuscirebbe, e questa è un'abilità in un'era come quella di oggi sulla comunicazione, Renzi riuscirebbe stasera se fosse qua a fregare il portafoglio a lui, a uscire e a tornare dentro dicendo ti ho fregato il portafoglio, ma siccome sono bravo te lo ridò con la metà dei soldi dentro e devi anche ringraziarmi è questo, come gli 80 euro, come il Jobs Act, è geniale, ragazzi, perché io quando faccio una cazzata o quando dico una cazzata e mi capita, chiedo scusa, perché se faccio qualcosa di sbagliato non mi viene da inventarmi, no, chiedo scusa, ho sbagliato, ti ho rubato il portafoglio qua c'è qualcuno, c'è stata una sentenza della Corte che ha detto che la legge Fornero era sbagliata perché aveva bloccato le pensioni e quindi a milioni di italiani lo Stato aveva rubato fra i 3 e i 5 mila euro, ve lo ricordate? Magari c'è anche qua, sotto questo tendone ecco, sempre te che hai cacciulato il portafoglio, t'han pure fregato quindi, sentenza della Corte Costituzionale, la legge Fornero era sbagliata dove la pensione deve essere adeguata, ti hanno fregato fra i 3 e i 5 mila euro ma voi ve lo ricordate cosa genialmente, diabolicamente è riuscito a fare Renzi? era andato a Domenica Inn da Giletti dicendo, sì è vero, al signore hanno cacciulato 3 mila euro però visto che io sono buono, gliene ridò 500 e voleva, e c'era gente che lo applaudiva